Un bonus fino a 198 euro per il personale AMA che lavorerà nel fine settimana. Dopo gli incentivi del periodo natalizio è questa la nuova scommessa della municipalizzata Capitorina per migliorare la pulizia della città. Secondo le stime dell'azienda saranno 230 i dipendenti che verranno aggiunti nei turni festivi. Una misura ben vista da alcuni cittadini. Se ci sono dei bonus una persona così può arrotondare, può avere beneficio, magari anche più motivato. La riqualificazione urbana è necessaria in molte zone della capitale come nel caso di strade e parchi a piazza Mancini. Soprattutto per noi che siamo un liceo è difficoltoso perché spesso troviamo anche della spazzatura buttata all'interno del giardino. Diciamo che la mattina presto troviamo quasi di tutto. Qui un progetto organizzato dalla cooperativa oltre da altre realtà associative ha vinto un bando regionale da 100.000 euro per istituire manutentori di quartiere che lavoreranno in sinergia con la municipalizzata. L'operatore ama, passa, pulisce e va via, mentre la presenza costante due volte a settimana di una persona che è lì cinque ore sul territorio ha portato veramente i cittadini anche ad attivarsi essi stessi.